BATTINI AGRI Ovviamente ci sarebbe da fare la firma per aziende come queste, sia a livello di immagine che ovviamente legate a noi da una partnership che dura da oltre 30 anni. Però c'è questo 0,1 da immediatamente risolvere. Oggi comunque parliamo di fienagione, ma veniamo a quante macchine sono di proprietà dei Favalli? Allora, consegnate da noi ne hanno oltre 25. Diciamo del gruppo Quernaland, e questo mi inorgoglisce molto, ne hanno 12. Tutto il parco macchine riferito, perché oggi si parla di fienagione, alla fienagione appunto, è Quernaland, Vicon nello specifico. E quindi insomma, ripeto ancora il concetto, un'azienda molto molto legata a noi, ma soprattutto alla qualità dei marchi che rappresentiamo. Poi è un piacere oggi essere ancora in compagnia di Roberto Bartolini, ma che cosa significa avere un buon fieno? Beh, un buon fieno è un fieno, direi, ricco di proteine, quindi con un buon tenore proteico, con carboridrati, con una buona digirabilità, che questo è fondamentale in stalla, ma anche con l'assenza, diciamo, di patogeni e di terra. Questo è il punto fondamentale, per cui diventa estremamente importante utilizzare, diciamo, delle tecnologie che poi col tempo salvaguardino il parato, e quindi riesca a salvaguardare soprattutto i ricacci, e questo vuol dire la durata del parato. E quindi qui, direi, già in fase di taglio diventa estremamente importante che le attrezzature che usa l'agricoltore abbiano determinate caratteristiche. Vicom da sempre ha una prerogativa inimitabile, che è quella di avere i piatti controrotanti su falciatrici o falciacondizionatrici, ma la cosa veramente diversa da tutti, che ha tre coltelli per ogni disco. Quindi Roberto diceva che la cosa importante è un taglio preciso e netto, alto il giusto, e con Vicom questo lo puoi fare. Grazie a diverse regolazioni del galleggiamento, perché appunto per mantenere un prodotto di una certa qualità è necessario avere un galleggiamento ottimo. Vicom è detentore di un brevetto che si chiama Free Float, che garantisce all'operatore di avere un galleggiamento perfetto. Guardando il senso di marcia, la macchina si solleva lateralmente, destra e sinistra, come tutti, ma arretra alzandosi, quindi questo garantisce la perpendicolarità del taglio. Dopo il taglio veniamo però al voltafieno, anche questo un passaggio fondamentale. Il rivoltamento è fondamentale per favorire evidentemente la giusta essiccazione del prodotto e anche da questo punto di vista è chiaro che la macchina deve però trattare il fieno in maniera molto delicata, facendo le operazioni in modo corretto, perché altrimenti tutto quello che si è fatto prima viene rovinato. E sempre qua l'attenzione di Vicom verso la qualità del prodotto è proprio ottimale. Sì, qua nello specifico Fabrizio e Federico hanno due voltafieno per due tipologie di lavorazioni diverse. Quello che hanno scelto per primo è il Fanex 763, perché Fanex è il nome che Querneland e Vicom dà ai suoi voltafieno. È il 763 che ha una prerogativa importante, quella di avere sei rotori, quindi grande diametro, 7,60 m di larghezza, ma la cosa importante è che è dotata di 7 braccia per rotore. Il rotore grande con più braccia permette all'operatore di essere nello stesso tempo molto veloce, ma di trattare il prodotto molto molto delicatamente. E ora veniamo invece all'andanatura. Sì, beh l'andanatura diciamo è la terza fase, direi estremamente importante perché poi sull'andana lavorerà la rotoballa, e quindi bisogna che anche l'andana sia fatta in un certo modo, cioè sia ben strutturata, sia ben aereata e bisogna cercare evidentemente di raccogliere solamente l'erba sfiorando diciamo solo la superficie del terreno e quindi evitare che effettivamente ci sia diciamo del rasteralamento di terra e di altre cose che andrebbero ad inquinare il foraggio. Ma l'andanatura va fatta anche con una certa velocità e quindi anche da questo punto di vista effettivamente le macchine devono avere determinate caratteristiche perché con gli andamenti stagionali che abbiamo avuto negli ultimi anni la finestra utile per il foragicoltore è veramente sempre più stretta. E qui troviamo sempre il punto di riferimento. In questo caso Cverneland e Vicon danno all'andanatore un nome importante che c'è da molto molto tempo, gli Andex, tanti li conoscono ovviamente con questo nome, partono da 3 metri e 20 e vanno fino a 15 metri. Anche qua i Favalli hanno scelto una macchina particolare perché hanno scelto il top di gamma per il duo per i due rotori. È dotato, come diceva Roberto, era necessario poter trattare il prodotto in un certo modo ed era necessario avere anche qua un galleggiamento, un adattamento al terreno perfetto. Quindi nelle macchine profi di Cverneland, quindi negli Andex 784 e 844 abbiamo il Terraling 4 di serie, cioè il rotore di destra si adatta al terreno fino al 15% di dislivello. Questo consente all'operatore di andare molto molto veloce e nello stesso tempo di trattare il prodotto bene, ma soprattutto rimuovere l'andana fino alla fine, il massimo possibile. Velocità e qualità che troviamo anche nelle rotopresse e anche qua la raccolta è molto importante. Come ho detto bisogna portare a casa un fieno di alta qualità. Ricordiamo che tra l'altro per riacollegarci al discorso della PAC i prati permanenti saranno al centro della manovra 2015-2020, saranno fortemente salvaguardati, anzi l'Unione Europea ha un occhio di riguardo perché i prati aumentino e quindi gli agricoltori che hanno prati permanenti sono effettivamente avvantaggiati rispetto agli altri perché ad esempio sono già nel greening e quindi non hanno bisogno di fare rotazioni che invece sono necessarie per tutti gli altri che fanno i seminativi. Però tutto questo perché bisogna portare a casa un prodotto che poi sia ben appetito dalla vacca da latte per arrivare a produrre un latte di alta qualità che è il punto fondamentale. Quindi è una filiera che deve lavorare al meglio per riuscire a far sì che poi l'allevatore ottenga il massimo dei suoi animali. Allevatore che poi comunque sceglie che operazioni attuare anche nelle rotopresse. Sì, i Favalli hanno scelto una macchina particolare con un infaldatore rotativo. Anche qui Kerneland ha oggi la possibilità di offrire quattro tipi di sistemi di introduzione diversi uno dall'altro, a seconda del prodotto. Qua appunto i Favalli hanno scelto una macchina a rotore dotata già di serie di un fondo particolare chiamato Drop Floor che consente all'operatore anche in caso di ingolfamenti di sgolfare la macchina stando seduto sul trattore. Quindi ritorniamo a un discorso di perdita di tempo e quant'altro e di salvaguardare il prodotto. Questo per esempio è uno di quei motivi per cui vengono scelte le nostre macchine. Quindi abbiamo ascoltato la teoria, però è bene passare alla pratica ascoltando le parole dirette dei Favalli. Fabrizio Favalli, benvenuto a Battina Greenforma. Allora, è tantissimi anni che sei, potremmo dire, fedelissimo a Vicon. Sì, ormai sono più di dieci anni che abbiamo il parco Fienagione e tutto Vicon. E questo dovuto al fatto che dopo alcune prove con altre macchine e considerazione abbiamo visto che non è da dire ma sarebbero le migliori. E veniamo quindi al taglio. Come ti trovi con questa falcia condizionatrice? Beh, la nostra falcia condizionatrice ha il vantaggio che avendo tre lame sugli dischi praticamente ha sempre il taglio attivo e questo permette di riuscire anche con foraggio molto allettato e molto copioso di riuscire un taglio perfetto sempre all'altezza costante dei 2-3 cm che vogliamo e questo dovuto anche grazie al fatto dell'elevato potere di galleggiamento che ha questa macchina. Infatti noi che abbiamo anche tra l'altro prati stabili umili, lei riesce a galleggiare senza creare problemi sul prato. Questo per noi è un grosso vantaggio. E per quanto invece riguarda il Volta Fieno? Il Volta Fieno abbiamo scelto Vicon perché è una delle poche macchine che ha sette braccia. avendo sette braccia permette di trattare molto più delicatamente e velocemente il prodotto. Passiamo poi all'andanatura, è anche qua Vicon. Eh beh, ormai è sottinteso. Andanatore Vicon perché praticamente pettina il prodotto senza tirar dentro terra, senza tirar dentro sassi e noi che produciamo fieno per vendere dobbiamo cercare di portare a casa sempre un prodotto valido. Quindi veniamo alla raccolta. Anche qui abbiamo una rotopressa Vicon a 41-16R a cuore variabile e questo ci permette di imballare i nostri balloni in tre stadi diversi in quanto possiamo fare un cuore tenero, un cuore duro, un cuore semiduro. Abbiamo tutte le possibilità possibili in base al prodotto che andiamo a imballare e in base anche all'umidità del prodotto. Quindi per poter avere sempre l'ottimale cerchiamo di variare queste pressioni ed avere dei balloni sempre perfetti. Quanti ne fate al minuto? Col primo taglio siamo arrivati a quasi un ballone per minuto. E con che trattori? Ma trattori non di alta potenza perché tutto sommato non è che richiedano una grande potenza quindi possiamo fare tutte queste lavorazioni con macchine anche di bassa potenza e questo ci permette di non calpestare i nostri campi, i nostri prati in modo per avere sempre la qualità del nostro prodotto. Grazie mille Fabrizio per la tua considerazione. A voi. Quindi Presidente Battini, importante testimonianza oggi. Sì, quindi lunga vita clienti come questi. Anche se hanno una pecca a ritorno al 99,9% ma per adesso la sopportiamo per poco. diamo una settimana di tempo a Fabrizio per ripianare questo gap ma comunque lunga vita clienti come questi. E noi amici agricoltori ci vediamo sempre la settimana prossima con altre novità. Seguiteci quindi a Battina Greenforma.